Pallone che viene allontanato, Faragalla ad allontanare, gestisce Mulas, un appoggiato dietro per la possibilità centrale per Mulas che apre il gioco sulla sinistra, poi pallone messo dentro, arriva il gol del vantaggio dopo due minuti di gioco per il Deportivo Carogna, il gol segnato da Salatino, può pensare alla ripartenza per un attimo il Confucius Solar nel pallone verso Costa Caro perché arriva il gol del 2-0 del Deportivo segnato da Rotondo, ripartenza per ancora il Deportivo che sulla linea di porta scambia e trova il gol del 3-0 segnato ancora da Davide Salatino, doppietta per lui, ancora il bel giropalla, il pallone portato verso l'area di rigore del Confucius Solar, arriva il poker, dopo 9 minuti di gioco questa volta la marcatura porta alla firma di Albani che deve solo toccare in porta, colone riconquistato alto da Rotondo, poi calcia Albani quasi a botta sicura contro il palo, calcia da posizione piuttosto difficile, Ravanetti che trova il pokerissimo 0-5 Deportivo Carogna dopo 15 di gioco, la posizione è piuttosto difficile, Ravanetti che trova il pokerissimo 0-5 Deportivo Carogna dopo 15 di gioco, l'interno del Deportivo che può affondare la ripartenza, colone appoggiato dietro alle parti di Mulas, poi sulla sinistra Rotondo con il diagonale vincente 0-6, gol del capitano del Deportivo Carogna, ancora il gol per il Deportivo Carogna, ancora la firma del capitano, tiro deviato, 0-7, Coglietti ha riconquistato il numero 5 che poi punta l'avversario, si spatte contro piede per il Deportivo ultimazione probabilmente del primo tempo, Zampetti calcia lui, 0-8, scadono adesso i 25 minuti del primo tempo, infatti puntuale, il signor Lucibello manda le spade a riposo sul punteggio di 0-8, Palla che giunge dalle parti ancora di Rotondo, altro gol, Deportivo Carogna, 9 con Fusion Solar 0, Mulas di conquista, alto e calcia, un stiluro contro la traversa, poi non è finita, la prova anche Rotondo, Rotondo solissimo può passare il pallone dalle parti di Albani, si ottiene il calcio d'angolo ma si divorà il gol della doppia cifra, poi si addormenta completamente la difesa della Confusion Solar, e anche Mulas si divorà il gol. Funzione al gol della bandiera per il Confusion Solar che porta la firma di Garzullo, 1-9. Rotondo passa centralmente, super dribbling di Rotondo, ancora tempo per una ripartenza, l'ha riconquistata però Mulas, Rotondo sposta il pallone, calcia, con proietti a terra, non lo colpisce, 10-1, ecco la doppia cifra per la Carogna. Trovato un po' di coraggio il Confusion Solar che adesso ci prova, Mulas però riconquista il pallone, 2 contro 1, Mulas scambiano, i giocatori, 11-1 col di Albani. È arrivato il triplice fischio, si chiude allora sul punteggio di 11-1 la sfida tra Confusion Solar e Deportivo La Carogna. Un saluto dalla redazione di Live Sport Academy, grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima. Grazie. Grazie.